Sì cazzo, dai, mamma mia, una partita sudata, sudata ragazzi, una partita sudata Altro che quella col Milan, che avevamo passeggiato, con zero di rimporta loro, oggi ce la siamo sudata Mamma mia, con la Lazio veramente è una cosa incredibile ogni volta Madonna, nel primo tempo abbiamo iniziato, diciamo che inizialmente le squadre erano un po' bloccatine, no? Poi abbiamo segnato noi, ragazzi, primo tempo un Andanovic, mostruoso, ha fatto tre o quattro parate veramente fondamentali Samir Andanovic, veramente un gran portiere, ha parato sull'uscita di chi era? Di Caicedo, il tiro da lontano non mi ricordo di chi, un paio di tiri raso terra, prima a destra poi a sinistra, parati tutti e due Ragazzi, veramente, nel primo tempo Samir ci ha salvato le cappette, veramente un grandissimo portiere Secondo tempo, diciamo che nel secondo tempo le squadre si sono allungate, occasioni da una parte, occasioni dall'altra Lautaro che verso la fine ha preso palla al difensore, praticamente davanti al portiere ha sbagliato Barella, anche lui davanti al portiere, da solo, le ha tirate in bocca Poi comunque, occasioni da parte della Lazio, insomma, un bel po' di occasioni, anche se comunque, ragazzi, noi lì davanti bisogna buttarla dentro Lautaro, va bene, Lautaro è stato bravo a prendergli la palla Magari lì per lì, ha sbagliato, però bisogna, un attaccante deve buttarla dentro Ma Barella, ragazzi, Barella, da solo, ha anche avuto il tempo di guardarsi dietro, se arrivava qualcuno Cazzo, lì devi segnare, devi segnare Una partita, comunque, sudata, tre punti sudati, altra vittoria, punteggio pieno Ci aspetta la Sampdoria, ragazzi, comunque una difesa, ragazzi, io vedo, io vedo veramente La nostra difesa, il reparto difensivo, proprio completo, quindi Tra Andanovic e i tre difensori, Godin, Skriniar, De Vrij, veramente dei muri Sto vedendo Godin, veramente un super, super, super E c'è chi lo dava per un giocatore finito, invece si sta dimostrando Quello che tutti sapevamo, un grandissimo difensore Barella, meglio nel secondo tempo Quando è entrato Sensi ed è uscito Vecino Se non sbaglio, Barella è stato spostato Dove giocava Vecino, a fare quello che faceva Vecino E ho visto un Barella molto, ma molto migliorato nel secondo tempo Con più protagonista nel gioco e quant'altro Quindi forse Barella, il messo a fare quello che faceva Vecino è molto, molto meglio Lukaku si è sbattuto tantissimo, ragazzi, ha avuto 3-4 tiri Usciti comunque sempre di poco Peccato, però ragazzi, si vede, si vede Che Lukaku non è solo lì davanti Che prova a fare gol, prova a fare i diri e questo Cioè torna, fai lavoro sporco Ragazzi, ogni palla in avanti c'è Lukaku che protegge il pallone e fa la sfonda Ogni pallone buttato lungo c'è Lukaku Ogni ripartenza che serve un attaccante che fa da sfonda c'è Lukaku Cioè, il lavoro di Lukaku veramente è straordinario Straordinario, ragazzi Politano un po' così, non è che mi sia piaciuto tantissimo Poi che altro abbiamo Biraghi? Biraghi non male All'inizio l'ho visto un po' sottotono Poi è cresciuto molto bene la fase difensiva Gran bel cross per D'Ambrosio Che anche lui, fino a quel momento, non è che stava giocando benissimo Ma dopo un anticipo gol di testa, ragazzi, grandissimo D'Ambrosio Che anche quando sembra giocare male, poi lo zampino ce lo mette sempre Poi chi altro? Senzi è entrato, ha fatto due o tre cosette Ma comunque, vabbè, è entrato adesso alla fine Sanchez l'ho visto comunque bene Secondo me Sanchez, non lo so, lo vedo un po' appesantito Lo vedo un po' appesantito Infatti, non per niente entra sempre alla fine e gioca poco Perché non è proprio al top della forma Ecco, per quello, perché un giocatore come Sanchez giocherebbe sicuramente Sicuramente comunque sarebbe al posto di Politano, secondo me Ma non è al top della forma L'ho visto anche molto appesantito Però si vede che i piedi ce li ha I piedi, le giocate, l'esperienza ce l'ha Sanchez Lautaro ha fatto qualcosina, ha sbagliato quel gol Però vabbè ragazzi, ha giocato poco Anche lui ha giocato quanto? Dieci minuti, un quarto d'ora? Difesa bene Poiché altro? Comunque, ragazzi, sì, una partita che Non è che abbiamo brillato Anzi, abbiamo rischiato moltissimo Moltissimo Dobbiamo ringraziare tanto Andanovic E soprattutto, ragazzi, abbiamo una difesa forte Quindi anche quando sembra tutto perso C'è uno dei difensori che riesce a rimediare in qualche modo E vabbè, tutto sommato, sì, una partita non eccezionale Però ragazzi, l'abbiamo portato a casa tre punti Soffrendo, ce l'abbiamo fatta Punteggio pieno Il Napoli ha perso in casa In casa col Cagliari Adesso ragazzi, noi siamo a punteggio pieno a 15 punti Seconda la Juve, ragazzi, terza l'Atalanta Poi c'è il Napoli e Cagliari a pari punti Abbiamo la Roma Che oggi ha perso proprio contro l'Atalanta Abbiamo, domani giocheranno Torino-Milan Quindi vedremo un po' cosa farà questo Milan di Giampaolo E anche il Torino Una Samp che Non lo so, secondo me Di Francesco dura ancora pochissimo, sinceramente Vediamo un po', ragazzi Per adesso non c'è niente Prossima partita, se non sbaglio, sabato alle 6 Vado subito a vedere Sì, sabato alle 6 Fuori casa contro la Sampdoria Ragazzi, una Sampdoria Che se io sentissi da una squadra Samp In fuori casa, direi subito È una partita tosta Sarà una partita tosta Non fatevi ingannare Che la Samp gioca male Che c'è un Di Francesco Che sta facendo schifo Che comunque è ultima in classifica Se non sbaglio È ultima in classifica insieme alla spalla 3 punti Non fatevi ingannare Sarà comunque una partita difficile Proprio per questo la Sampdoria Deve rifarsi a voglia di rivalsa Quindi non sottovalutiamo Niente a nessuno Ma penso che Conte Lo sappia benissimo E imprimerà questa cosa Nella testa dei giocatori E niente Noi ragazzi Ci vediamo quindi Per il post partita Di Sampdoria Non lo so se riuscirò a vederlo A vederlo tutta la partita Perché sarò a lavoro Sarò a lavoro Quindi mi sa che Forse E dico forse Riuscirò a vedermi il secondo tempo Dico forse Se Dio me la manda buona Riesco a vedermi il secondo tempo Se no Niente Forse vediamo se mi rivedo Come si dice La replica Vediamo Ma comunque me la sentirei in radio Non è che aspetto la replica Per sapere Non ce la farei E niente ragazzi Sempre forse Inter Dagli è così Anche questi tre punti Portati a casa E anche la Lazio È andata Ciao ragazzi Dai alla prossima